buongiorno a tutti sono villi dalla svizzera devo fare un aggiornamento sulla mia piccola serra ma ci sono quattro pomodori sono dieci secchi secchi olandesi con un secchi batto però con l'argilla espansa non ho più il sistema aeroidro perché ho dovuto togliere tutto chi ha visto il video che ha postato luca il mio qua avevo in aprile avevo qua delle piantine di pomodoro che avevo seminato io con già i pomodori sopra ea fine aprile ho dovuto tirar su tutto causa malattia a un virus che ma beccato tutto pomodori peperoni melanzane tutto tutto ma beccato anche le zucchine e non era un problema dovuto al sistema perché anche in terra qua avevo avevo dei pomodori in terra e sono malati tutti è stato proprio una contaminazione probabilmente dovuta anche dovuta a problemi già esistenti magari anche dall'anno scorso che ho avuto già in terra e sono qualche anno che io in terra non riesco più coltivare niente probabilmente c'erano già il virus già in giro e poi io mettendo assieme tutte le piantine usando la stessa acqua di ricircolo anche per i vasetti con le piantine in terra e probabilmente ho contagiato o contagiato tutto questo invece è una ripartenza che ho fatto al maggio adesso siamo oltre la metà di agosto siamo al 18 di agosto e qua ci sono quattro piante di pomodoro che mi hanno fatto e ho tirati a pergolato qua sono ognuna a due rami e sono piante innestate con due rami poi intramesso c'ho dentro dei peperoni c'ho dentro dei peperoni qui sta una melanzana che si era anche rotta giù proprio dove c'era l'innesto però ha continuato a produrre sono riuscito a legarla ha riattaccato e questa produceva adesso si è fermata un attimino produceva una melanzana ogni quattro giorni ma abbiamo ancora adesso è rallentato è adesso è rallentato si è riempita di afidi c'ho delle formiche che stanno andando su a mi stanno ammazzando i fiori lì c'era un cetriolo là dietro adesso si sta si sta un po' malando però va bene ha finito il suo ha finito il suo corso piante in estate molto bene ho dovuto praticamente tirar su tutto è stavo dicendo ho dovuto tirar su tutto disinfettare tutto in questo caso io non avevo l'argilla espansa sennò l'avrei buttata via per evitare contaminazioni future essendo che adesso qua quest'anno sta andando bene vediamo se riesco a fare un'altra prospettiva sono piante che cominciano salgono salgono e poi ai due rami praticamente che arriva e adesso ho cominciato a cambiare anche la direzione adesso le sto facendo andare in là tra un attimo le cimerò perché poi poi ma intanto vedo che sta andando sta andando molto bene vediamo anche qua i peperoni il problema che ho avuto con i peperoni dentro qua è che sono sono in mezzo là non era calcolato ad avere delle piante con due rami ma queste le ho comperate e sono andate a oscurare i peperoni lì se si è imboscato dentro in mezzo ai pomodori non sta facendo niente un altro problema è che sono partito dal versante nord perché dico poi le piante di pomodoro vanno su in alto qua e non mi fanno ombra al resto della cultura però qua sono andato oltre sono andato di là e adesso questa pianta qua sto pergolato di pomodori mi sta facendo ombra la sotto di fatti sta maturando la sopra sopra sta maturando e qua invece qua invece in basso no perché non prende sole stanno maturando sopra sopra sta maturando e sotto c'è ancora qualche qualche pomodoro bene qua risultato sembra buono produzione sta andando tutto come funziona come come si dovrebbe scusate ma oggi sono un po un po stanco qua ho ripiantato ancora le mie insalatine dentro in un sistema queste le piantate qualche giorno fa non credo si vedano già le radici si sta spuntando qualcosa qua ho delle bolle d'aria delle bolle d'aria e un pannellino solare questo è indipendente da su sistema qua per il rabocco vediamo cosa cosa succede sotto c'è una pompettina una pompettina d'aria vediamo se riesco a tirarla fuori qua c'è una pompettina d'aria che va con l'impianto energia energia solare c'è un c'è anche una batteria all'interno del del pannellino solare un attimo vediamo un po se riusciamo a partire qua c'è delle fragole su fibra di cocco qua è andato un po tutto così c'è c'è anche roba che è seccata che no non ci ho guardato dietro più di quel tanto fragole ne sta facendo però ho avuto diversi problemi si si fa la foglia si si tira assieme seccano i bordi non so se ha una carenza di calcio o penso che sia una carenza di calcio però non ho qua e fibra di cocco in irrigazione praticamente tre volte al giorno fa un minuto un flusso che mi riempie mi fa uno strato di mezzo litro d'acqua più o meno più o meno sopra il vaso in un minuto tre volte un minuto qua mi può andare avanti così invece i pomodori va un quarto d'ora si un quarto d'ora no qua il consumo d'acqua è veramente ridotto intanto qua sembra che sta venendo meglio si sta riprendendo le fragole cominciano a ritornare però non sono non sono così belle come all'inizio ho avuto dei problemi anche qua bene questo era il tutto per un aggiornamento qua buona idroponica a tutti